Musica Uccisa dal figlio sarebbe stato Angelo Fabio Matà ad uccidere la madre Maria Concetta Velardi a gennaio del 2014 nel cimitero di Catania ad incastrare l'uomo che ora dovrà rispondere di omicidio le prove biologiche rilevate dalla scientifica La banda dei colpi, prima l'assalto a un portavalori di Milazzo sfociato in un conflitto a fuoco poi la rapina a un istituto di credito di Barcellona Pozzo di Gotto arrestate sei persone tra rapinatori e basisti, tra loro anche due guardie giurate e un impiegato di banca Eolie tutto l'anno, pressioni da parte del governatore Crocetta per prolungare la tratta Palermo-Eolie e potersi recare nella sua amata Filicudi comodamente, non solo in estate foto e telefonate fanno dal resoconto per quanto successo la scorsa estate e allargano l'inchiesta Mare Mostrum Una Serie C siciliana, viaggio nel prossimo campionato di Lega Pro che tornerà a chiamarsi Serie C con il Girone C che vedrà ai nastri di partenza ben sei formazioni isolane Abbiamo analizzato il momento delle nobili decadute Catania, Messina e Trapani E ben trovati amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con la nostra informazione da Giorgia Tavita E da Lorenza Anfuso, ben ritrovata Giorgia, ben ritrovati i nostri amici a casa Mercoledì 31 maggio avete appena preso i principali fatti di giornata Partiamo dalla cronaca per tornare indietro in effetti di tre anni Sarebbe stato il figlio di Maria Concetta Velardi ad uccidere la madre nel gennaio del 2014 all'interno del cimitero di Catania A distanza dunque di due anni e mezzo le prove biologiche della polizia scientifica incastrano l'uomo arrestato ora con l'accusa di omicidio Era stata trovata con la testa fracassata da un grosso masso di pietra lavica a pochi metri dalla cappella di famiglia all'interno del cimitero di Catania dove si recava ogni giorno per pregare sulla tomba del marito e del figlio morto nel 2009 per un male incurabile A distanza di due anni e mezzo da quel 7 gennaio del 2014 scatta l'arresto per l'autore dell'omicidio di Maria Concetta Velardi Sarebbe stato il figlio della donna, il sottoufficiale della marina militare Angelo Fabio Matà ad uccidere la madre senza alcuna pietà ad incastrare Matà le prove biologiche rilevate dalla polizia scientifica sul luogo del delitto, lo stesso luogo, dove l'uomo ai tempi dichiarò agli agenti di polizia di aver trovato la madre ormai senza vita dopo essersi allontanato per qualche minuto giusto il tempo di un caffè La prima ipotesi subito esclusa fu quella di una rapina ma la Velardi venne trovata con ancora indosso una collana ed un bracciale Fu dopo qualche giorno che le indagini degli agenti si indirizzarono anche sul figlio indagato insieme ad altre quattro persone poi scartate Matà infatti avrebbe sostenuto da sempre la sua estraneità ai fatti esponendo la tesi che al delitto avesse partecipato anche una donna e che ad assassinare la madre fossero stati in due ragione per cui avrebbe anche chiesto la riesumazione della salma al fine di verificare se le ferite sul corpo della vittima fossero state provocate da un ghiate, richiesta negata dal tribunale L'uomo dovrà rispondere ora di omicidio Prima l'assalto a un portavalori di Milazzo sfociato in un conflitto a fuoco poi la rapina a un istituto di credito di Barcellona Pozzo di Gotto La squadra mobile di Messina ha arrestato sei presunti tra rapinatori e basisti tra i sei anche due guardie giurate e un impiegato di banca Ce ne parla Gaia di Giorgio Avevano tentato una rapina nel dicembre scorso a un portavalori di Milazzo poi sfociato in un conflitto a fuoco tra malviventi e guardie giurate e poi avevano anche derubato un istituto di credito di Barcellona Pozzo di Gotto portando via oltre 400.000 euro Stamattina la squadra mobile di Messina ha arrestato gli esecutori e i basisti che avrebbero fatto parte della banda Tra loro anche un impiegato di banca e due guardie giurate Si tratta di Vincenzo Nunnari di 60 anni, Salvatore Di Paola di 19 Giovanni Cortese di 43 anni e delle guardie giurate Rosario Mazza di 62 anni Antonio Mascarese di 46 e dell'impiegato di banca Mirco Silvestri di 34 anni L'indagine è scattata in seguito al tentativo di rapina commesso il 1 dicembre 2016 intorno alle 6.30 presso la biglietteria degli Aliscafi Liberty Lines di Milazzo dove tre persone col volto coperto e armate di pistola hanno aggredito due guardie giurate che addette al servizio di trasporto valori delle isole olie trasportavano grosse somme di denaro custodite in uno zaino e in un trolley Uno dei malviventi ha colpito con il calcio della pistola più volte una delle guardie Per difendere l'uomo il collega ha esploso alcuni colpi contro i rapinatori che sono fuggiti senza riuscire a impossessarsi della refurtiva Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza è stata individuata l'auto utilizzata, una mini cooper rubata I rapinatori conoscevano tutti gli spostamenti del furgone Le intercettazioni hanno così permesso di individuare i basisti Rosario Mazza e Antonio Mascarese Quest'ultimo, dipendente della Sicur Transport di Messina la stessa mattina si trovava a bordo di uno dei furgoni della ditta che era partito contemporaneamente a quello sul quale viaggiavano le due guardie giurate successivamente aggredite Incastrati due dei tre salitori Vincenzo Nunnari e Salvatore Di Paola Lo scorso 28 marzo era stata la volta del colpo alla banca di credito peloritano di Barcellona Un uomo travestito da donna e armato di taglierino si è introdotto nell'istituto dopo che il cassiere Mirco Silvestri gli aveva aperto la porta di sicurezza Armato ha simulato le minacce al cassiere che ha sbloccato il sistema di sicurezza dell'ingresso permettendo a secondo complice di prelevare 400.000 euro posti fuori dalla cassaforte perché in attesa del portavalori Altro disperso in mare l'ennesimo di queste ultime settimane si era immerso appunto nel tratto d'acqua tra Termini, Imerese e Trabbia nel Palermitano senza però tornare più a Riva sono in corso le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco per ritrovare Ivan Bona il sub 37enne scomparso da ieri fino ad ora ha trovato solo l'imbarcazione con la quale l'uomo era uscito in mare E cambiamo argomento Lorenzo perché emergono nuovi elementi che compongono l'inchiesta Mare Mostrum nell'ambito dei trasporti marittimi foto e telefonate raccontano degli interessi di Crocetta nel prolungamento stagionale della tratta Palermo-Eolie Ascoltiamo Il presidente della regione, Rosario Crocetta era interessato al prolungamento stagionale della tratta Palermo-Isola-Eolie e a testimoniarlo ci sono le foto dei suoi soggiorni estivi a Filicudi Nell'inchiesta di cui è protagonista l'armatore Morace un capitolo è dedicato proprio agli interessi del governatore Crocetta sulla tratta Crocetta è accusato di concorso in corruzione per aver ricevuto un contributo elettorale da 5.000 euro per il suo movimento politico riparte Sicilia proprio da Morace accuse respinte dal governatore in conferenza stampa Nessun favore ma un contributo elettorale ricevuto alla luce del sole ed eseguito con tanto di bonifico bancario Il contratto di servizio della tratta Palermo-Eolie prevedeva la copertura dal 20 giugno al 10 settembre tutti gli altri mesi invece era necessario partire dal porto di Milazzo eccezione fatta lo scorso anno che il periodo fu esteso fino al 20 settembre come richiesto da Crocette tracciato nelle intercettazioni telefoniche durante un viaggio ma lui in realtà avrebbe sperato nei collegamenti tutto l'anno il costo per 10 giorni fu quantificato in 220.000 euro dai dirigenti dell'assessorato ai trasporti soldi che dovevano essere scalati dalle cosiddette migliomesse Crocette però non era il referente adatto ad avanzare la richiesta che fu fatta avanzare con un escamotage dal sindaco di Lipari Marco Giorgianni Morace però non era convinto e il giorno prima della riunione fissata a Palazzo d'Orléans raccontava della telefonata Preside ma tutto l'anno a chi ci portiamo non portiamo a nessuno prima a Montalto e poi a Pistorio ad intervenire poi anche il dirigente dell'assessorato ai trasporti Fulvio Bellomo che chiedeva del prolungamento della tratta e dei finanziamenti alla dirigente Dorotea Piazza colei che collaborando con i magistrati denunciò il tutto la tratta fu così prolungata il 15 settembre Crocetta sbarcò di nuovo a Filicudi per trascorrere il weekend insieme a Morace e Finocchiaro presso l'albergo di Santa Maria delegato per l'isola di Filicudi dal sindaco di Lipari e di trasporti in questo caso via terra continuiamo a parlare perché dopo la visita di ieri del ministro Garziano Del Rio a Palermo quest'oggi anche il ministro per la coesione territoriale è il mezzogiorno Claudio De Vincenti che ha viaggiato sul tram del capoluogo dichiarando collegamento vitale per dare coesione ai cittadini ascoltiamo Siamo sulla linea tramviaria che costituisce un collegamento vitale per dare coesione alla città di Palermo e nel patto per Palermo abbiamo stanziato risorse per un ulteriore completamento del sistema tramviario e adesso andiamo anche a vedere la stazione i sistemi di controllo l'officina insomma sono tutte cose che ci dicono che il patto per Palermo è fatto di realizzazioni per i cittadini che i cittadini possono toccare con vano e credo che questo sia molto importante il patto prevede in totale come sapete oltre 700 milioni già attivati in lavori in corso o in bandi che sono stati varati la metà circa 300 332 se non sbaglio le altre stanno partendo con dei bandi per il completamento della linea tramviaria coltivava la droga nella sua abitazione utilizzando abusivamente l'energia elettrica la guardia di finanza di Partinico nel Palermitano ha scoperto circa 100 piante di canapa all'interno di una serra e posto agli arresti domiciliari il proprietario dell'immobile è un anziano incensurato le fiamme gialle hanno perquisito un immobile e l'area rurale attorno all'edificio principale la struttura costruita in maniera abbastanza rudimentale era ben nascosta dalla vegetazione all'interno sono stati trovati fili elettrici parte dei quali erano stati interrati collegati ad un traliccio dell'Enel distante dal contatore la droga una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato all'incirca 100.000 euro torniamo adesso a Catania dove il 3 giugno in concomitanza con altre piazze italiane si tratta la manifestazione per la libertà di scelta in materia vaccinale promossa da gruppi di genitori sensibili alla tematica ed in sintonia con le varie associazioni che da anni operano a sostegno dell'obiezione di coscienza nei confronti delle vaccinazioni il decreto legge predisposto ma non ancora varato dal governo inasprisce le penne per gli obiettori di fatto costringendo i bambini ad effettuare 12 vaccinazioni obbligatorie imponendo per i genitori inadempienti sanzioni elevatissime e la sospensione della responsabilità genitoriale il dibattito vaccini sì vaccini no è assolutamente forviante ribadiscono le due organizzatrici dell'evento Luana Masuzzo e Alessandra Palermo ciò che vogliamo evitare è che si crei un importante precedente atto a legittimare la coercizione dei trattamenti sanitari sulle persone non consenzienti in aperta contraddizione con la convenzione di Oviedo oggi è toccato ai bambini domani potrebbe accadere ad ognuno di noi di essere sanzionato per la mancata assunzione di un farmaco bene Lorenzo cambiamo decisamente argomento apriamo la pagina dello spettacolo perché arriva a Palermo musica e cultura l'evento presentato da Francesco Facchinetti prenderà il via a partire dalle 16 in piazza Ruggero VII e vedrà la partecipazione di grandi nomi della musica italiana come Paolo Vallesi e Francesco Baccini sul palco anche il rapper palermitano Spica e tanti talenti emergenti ce ne parla Marco Pergolizzi Palermo sempre più vetrina di grandi eventi a partire dalle 21 di oggi arriva in piazza Ruggero VII musica e cultura l'evento presentato dal noto cantante speaker radiofonico Francesco Facchinetti vedrà l'esibizione di tanti big della musica italiana come Paolo Vallesi Francesco Baccini Mariella Nava Marco Ligabue e Anonimo Italiano grande spazio anche per gli artisti emergenti siciliani e non dalle 16 invece anche i nuovi artisti avranno l'occasione di farsi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico attraverso il palco di musica e cultura presentando il loro repertorio in piazza l'emergente più importante che si esibilà sarà Spica giovane rapper palermitano finalista del festival di Castro Caro celebre manifestazione nella cittadina omonima della provincia di Forlì fucina di nuovi talenti dal 1957 musica e cultura è organizzato dal nuovo operatore telefonico virtuale iMobile Pay per far conoscere i suoi nuovi servizi dedicati al pagamento elettronico attraverso smartphone in occasione dell'evento a partire dalle 14.30 saranno chiuse al traffico via Ruggero VII via Emerico Amari piazza Castelnuovo e via Turati previsto anche il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nel tratto che va da piazza Ruggero VII a via La Lumia chiuse anche piazza Sant'Oliva e via Paternostro all'incrocio con via Garzilli Passiamo adesso allo sport perché Mondello diventerà un unico grande stadio per una sera infatti è tutto pronto a Palermo per la finale di Champions League che come potete intuire non riguarderà il Palermo ma la Juventus e il Real Madrid Juventus è squadra molto tifata nel capologo direttamente dal National Stadium di Cardiff la partita verrà infatti proiettata su tre maxi schermi montati nella borgata marinara palermitana i televisori verranno collocati infatti nella piazza del paese e in spiaggia una a dello beach aperto a tutti con la possibilità anche di un aperitivo al tramonto che non fa mai male e una Lido Valdesi nello spazio del Mida che per l'occasione sta preparando anche l'iniziativa Mangiamoci gli Spagnoli un'ironica serata a base di paella e sangria e parliamo adesso del prossimo campionato di Lega Pro che tornerà a chiamarsi Serie C e che vedrà un girone C rappresentato da ben sei società siciliane scopriamo di più sul nuovo campionato 2017-2018 partendo proprio dalle nobili decadute Catania Messina e Trapani partiranno questa sera i quarti di finale dei playoff di Lega Pro nel girone C ma la testa per le siciliane è già rivolta all'anno prossimo quando lo stesso girone sarà dichiaratamente isolano sei infatti le squadre siciliane che si ritroveranno in astri di partenza del prossimo campionato che con tutta probabilità tornerà all'antico con la vecchia denominazione di Serie C tante le novità per il Catania sono tutte quelle legate al nuovo tecnico Cristiano Lucarelli è la prima scelta di Pietro Lomonaco per gli etnei ma l'ex ariete di Lecce e Livorno dovrà liberarsi del contratto col Messina fino al 30 giugno 2017 e senza risoluzione non potrà essere ufficializzato prima del primo luglio per lui un biennale oppure un contratto annuale con opzione per il secondo anno in caso di promozioni in B proprio il Messina però non vorrebbe liberarsi della sua guida tecnica e starebbe cercando di convincerlo presentata questa mattina la campagna abbonamenti peloritana cruciale per la completa iscrizione al prossimo campionato di Serie C in scadenza oggi 4.000 tessere l'obiettivo prefissato dalla società altra priorità assoluta e il raggiungimento dell'accordo per usufruire dello stadio celeste obiettivo del presidente Proto è quello di renderlo innovativo snello senza barriere consono alla dimensione attuale della passione sportiva di Messina assoluta incertezza ad ormai dieci giorni dall'avvenuta retrocessione in Serie C invece per il Trapani poche pochissime le possibilità di ripescaggio nel caso in cui la Ternana dovesse non iscriversi alla prossima Serie B in virtù del minor blasone storico e del numero medio di spettatori allo stadio negli ultimi cinque anni incertezza anche sul futuro di Calori mentre sembra quasi certa la rinuncia a molti dei giocatori protagonisti dell'ultima annata e di quella dei playoff per la Serie A come Coronado Piacelli Barillà Citro Nizetto e Yalou E vi anticipiamo che domani torneremo su questo argomento presentandovi invece la situazione delle altre tre siciliane che saranno impegnate nella prossima Serie C ossia Agragas e Siracusa e Sicula Leonzia E questa era l'ultima notizia Lorenzo siamo in chiusura adesso vi lasciamo al meteo grazie per averci seguito arrivederci amici tre di meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che a livello europeo vedrà ancora un'alta pressione protagonista sull'Europa centrale ma anche su Mediterraneo e su Italia quindi il tempo resta sostanzialmente bello ma sempre con temperature alte se guardiamo la nuvolosità prevista sul nostro paese in realtà noteremo il passaggio di alcune nubi al centro nord si tratta più che altro di nuvole alte degli strati quindi nulla di eccezionale sull'arco alpino però nuvolosità un po' più compatta e in effetti se andiamo a rivedere le precipitazioni previste vedremo che giovedì in giornata soprattutto nel pomeriggio su Alpi e Prealpi si formeranno degli acquazzoni dei temporali per lo più di breve durati classici temporali estivi e così per farla breve che tempo farà in Italia giovedì sostanzialmente sempre bello con qualche annuvolamento però di passaggio al centro nord e dicevamo qualche acquazzone sulle zone alpine e prealpine nel pomeriggio ma soprattutto temperature ancora alte in molte zone ben oltre 30 gradi con questo è tutto per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com l'ispetta 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 Grazie a tutti.